Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le tendenze energetiche per i single per il mese di novembre e iniziamo con il segno dei gemelli. Vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuona proprio nulla, se volete completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Per contattarmi invece trovate la mia mail iscritta qui nella descrizione del video e nelle info del canale. Queste sono letture che comunque si possono integrare con le letture sugli affetti e l'amore che escono ogni 15 giorni. Trovate comunque sempre tutto nelle playlist del canale sotto l'oroscopo mensile. Allora partiamo con un cavaliere di bastoni, una regina di spade, 4 di pentacoli e 4 di spade. Devo dire ragazzi che si parte bene, si parte con un cavaliere di bastoni, può essere una persona nuova che conoscerete a inizio novembre o potrebbe essere una persona che già conoscete che a inizio novembre potrebbe diciamo avvicinarsi un po' di più. Ho la sensazione però che tra la regina di spade e il 4 di denari ragazzi siate abbastanza sulle vostre. C'è qualcosa che bisogna ancora guarire, c'è qualche tipo di percorso di momento che è ancora necessario prendersi. Va bene, allora andiamo a vedere carta per carta che sfumature vengono fuori. Papa e 8 di spade. Allora considerato che c'è il papa si potrebbe trattare di una persona già impegnata o ragazzi si potrebbe trattare di una guida, di anche un maestro spirituale, di una persona particolarmente diciamo elevata o matura a livello spirituale, si potrebbe trattare di una persona con un profilo pubblico in qualche modo. Ho la sensazione, perché ho sentito la parola inarrivabile, quindi ho come la sensazione che lo vediate o la vediate come una persona inarrivabile. Probabilmente per quello che siete sulle vostre. Andiamo a vedere la regina di spade. Regina di spade di nuovo, mi pare giusto, è imperatore. C'è qualche cosa che ha a che vedere con le regole, con il tagliare quello che non serve, con la stabilità, il programmare, qualcosa di molto mentale comunque con la regina di spade. È come se fosse qualcosa che non può essere stabile. Voglio andare a vedere anche 4 di pentacoli, 5 di bastoni e 7 di spade. Allora, qui c'è qualcosa che effettivamente vi attanaglia, come se vi sentisse in svantaggio nei confronti di questa persona. E qui c'è proprio qualcosa che non torna invece. Ragazzi, io qui credo che a metà novembre dobbiate mettere voi delle regole, cioè evitare di essere così tanto flessibili o come questa sensazione. Non mettetevi sempre voi in discussione, cioè tipo appunto questa persona inarrivabile. Siamo tutti umani, tutti abbiamo pregi e difetti, cioè siamo tutti con le nostre zone di luce, le nostre zone d'ombra. Però sì, qui devo dire che c'è molta testa, è come se fosse una situazione legata a qualche bugia o che vi hanno raccontato, qualche pettegolezzo che avete sentito, qualche informazione magari falsa a cui vi siete aggrappati. Può anche essere una convinzione vostra che vi siete autofatti. E tenete presente che è facile perché avete un otto di spade, è una carta che indica che si vede tutto nero, che si vede più brutto di quello che in realtà è la situazione. Ci si sente come impotenti quando c'è un otto di spade. Qualcuno si sente impotente verso questo cavaliere di bastoni. O, ripeto, in una posizione di svantaggio. O come se ci fosse bisogno di qualcuno che media tra voi e questa persona. E credo che sia proprio perché abbiate una... O è un'informazione, o un'idea generale, cioè un'informazione generale che vi è arrivata, che avete raccolto da diverse fonti su questa persona, che magari non vi torna tanto, o è un'informazione che avete creato, cioè non lo so, c'è qualche cosa qua che non torna con quello che voi sapete, o con quello che vi dicono, soprattutto con quello che vi dicono. E il vostro attaccamento alla zona di comfort. Cioè, come stabilire delle regole per sentirsi al sicuro qui, dai pettegolezzi, dalle falsità. Uh, ragazzi, se fosse una questione di lavoro, vi dico, qui è come il è meglio raffreddarci, è meglio staccarci, è meglio darci delle regole per non destare sospetti. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 10 di coppia. Uh, che cosa ho visto? Gli amanti. Ragazzi, guardate. Allora, io non so chi sia, scrivetemelo poi nei commenti, se già conoscete questo cavaliere di bastoni, se magari è una persona con la quale o il quale la collaborate. E, anche se, ripeto, ho l'impressione che qualcuno già conosca questa persona, comunque abbia in testa qualcuno. Sta di fatto che a fine mese la storia cambia, ok? Si arriva comunque a un equilibrio, un'armonia, un senso di completezza. E' come se non ci fosse più bisogno di star fermi. E' come se non ci fosse più bisogno di prendersi questa pausa di rigidità, diciamo così. Questa pausa riflessiva. La pausa la vedo qui, non la vedo qui, eh? Ma comunque è finita, perché il 4 di spade è al contrario. C'è comunque la carta degli amanti, quindi secondo me può essere una relazione degna con questa persona. Chiaramente se poi voi avete la testa da 8 di spade, quindi siete pieni di gabbie mentali, di rigidità, qui è il caso di darsi delle regole, innanzitutto. Cioè, arrivo fin qui, da qui in avanti non penso più, tipo. Però, quando queste due carte che parlano di programmi, di progetti, di cose stabili, sono al contrario, parla proprio di diventare più flessibili, di seguire un pochettino di più il flusso. E' come se non dovesse essere scoperti. O c'è comunque una zona di comfort che deve essere creata per difendersi dagli altri, dal parlare esterno, dalle mali lingue. E poi, ad un certo punto, è come se non fosse più il caso di nascondersi. Non fosse più il caso di... Si può uscire allo scoperto. Andiamo a vedere una fatina. Motivazione. Allora, è interessante, perché questa carta dice quando la primavera, adesso vabbè, siamo in autunno, però, quando la primavera si affaccia, tutto quello che è stato programmato, e lo vediamo nella prima parte del mese, quello che è stato programmato in inverno, diciamo, quando arriva la primavera è ora di iniziare a fare qualche cosa per rendere concreto tutto quello che è stato il progetto invernale. E qui la vedo un po' la fase di progettazione dell'inverno, e più verso la fine del mese, magari anche verso dicembre, la vedo appunto come se fosse un risveglio della natura, un risveglio del cuore, qualche cosa, anche perché qui, vedete, stanno facendo un picnic. Va bene, amici dei gemelli, fatemi sapere come vi risuona nei commenti, soprattutto, come sentite voi questa regina di spade al contrario e questo imperatore al contrario? Tanto ormai se mi seguite da un po', sapete leggere le carte anche voi, praticamente, perché io lo spiego sempre. Va bene, però sono curiosa, fatemelo sapere, se avete piacere potete mettere like, iscrivervi, condividere o commentare, o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Benvenuti anche gli amici della bilancia e andiamo a vedere anche per voi quali sono le energie disponibili per novembre. Vi ricordo che sono letture collettive, è facile che non risuoni tutto, se non risuona se nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure venere. Nella descrizione ho pubblicato una guida che vi spiega come unire questi tre oroscopi e trovate anche la mia mail, che vedete anche scritta qui, che trovate anche nelle info del canale. Bene. Vi ricordo anche che questi oroscopi possono essere integrati con le letture quindicinali sull'amore e gli affetti. Allora, partiamo da un 4 di coppe, Re di Pentacoli, Forza e Mondo. Sono sempre contenta quando magari partono un po' così ma finiscono bene le letture. Allora, partono un po' così perché qui c'è un 4 di coppe, come se ci fosse... Guardate, io ho la sensazione che c'è una persona intorno a voi di cui voi non vi rendete conto. Ho come questa sensazione perché poi arriva subito dopo questo Re di Pentacoli e qui si tratta di trovare il coraggio, la forza. Si tratta di fare una scelta verso quello che è il vostro compimento. Andiamo a vedere perché poi magari con i mini tarocchi vengono fuori delle sfumature un po' diverse. Andiamo a vedere. Allora, 4 di coppe. Cavaliere di coppe. Ah, queste sono tante. Vediamo un po'. 8 di bastoni, carro, 3 di bastoni, eremita e 3 di coppe. Potrebbero proporvi, ragazzi, un viaggio, potrebbero proporvi uno spostamento, un progetto, o come la sensazione che potrebbe essere un viaggio romantico, magari anche solo una cena romantica in un posto diverso dal solito, in un posto un po' particolare. piccolare. Scusate un attimo. Scusate, era la gatta che volevo uscire. Allora, potrebbe anche essere un invito per una festa, per esempio, un invito per un seminario, un invito... è un invito, ragazzi, è una proposta. Però, come è la sensazione che tenderete a rifiutare? Questa eremita potrebbe essere vostra, eh? Come se non avesse tanta voglia di stare in mezzo alla gente. Potrebbe anche essere un convegno, vi dirò. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere il radi pentacoli. Papa e quattro di bastoni. Allora, ragazzi, in un certo senso hanno un po' la stessa energia, perché sono due carte che parlano di qualche cosa di stabile, di duraturo. Però è come se con il Papa e il contrario fosse qualche cosa... Diciamo che inizia in segreto. Andiamo a vedere la forza. Può anche essere che effettivamente voi con questo quattro di coppe siate in una fase un po' tutta vostra e che, insomma, non abbiate la voglia di fare le cose in modo troppo eclatante. Molto mi parla di viaggio, di spostamento, comunque, di qualche incontro fuori città ed è considerato che c'è anche il mondo sì che potrebbe anche essere un viaggio all'estero. È qualcosa che è o lontano a livello fisico o è lontano dal vostro modo di vedere le cose o magari dagli interessi che avete di solito. Va bene, comunque, allora andiamo a vedere questa forza. La forza è spiegata da un 3 di spade e da un'imperatrice. Qui è come se ci fosse ancora qualche ferita aperta inerente a un progetto, a una crescita, a una possibilità anche di crescita. Fatemi una carta in più per questo 3 di spade. 8 di pentacoli, 10 di bastoni e re di spade. Perché ho come la sensazione che qualcuno di voi sia appena uscito o stia ancora uscendo da una separazione? Fatemelo sapere nei commenti. Ho come l'idea che potenzialmente si potrebbero un po' cavallare le cose. Cioè, c'è questa nuova persona però in un certo senso voi le rifiutate o la rifiutate perché state uscendo da una storia, state uscendo da qualche tipo di situazione pregressa. Per qualcuno può essere semplicemente se non è un'uscita da una situazione precedente è un cambio importante che sta avvenendo nella vita. Può essere appunto un cambio di residenza, un cambio di lavoro. Tenete presente che c'è la forza. Quindi qui ho come l'idea che a fine mese avete bisogno di coltivare la vostra forza interna. è come se avessi bisogno di diventare madri migliori per voi stessi. Amarvi di più, essere più comprensivi, più compassionevoli. Siccome l'imperatrice fa riferimento anche alla madre, ho come la sensazione che ci potrebbe essere una questione da lasciarsi indietro che magari vi sta occupando la mente in questo momento proprio per cambiare, per arrivare a questo mondo, per chiudere questo ciclo. Andiamo a vedere il mondo. Due di bastoni. Questa mi è rimasta in mano, un otto di spade. No, vabbè, la rimetto dentro. Io sono sempre per le carte positive. Va bene. Quattro di pentacoli. Sì, comunque è una carta di staticità anche questa come l'otto di spade. Ragazzi, qui con il mondo ho l'idea che si possa parlare di un trasferimento, posso parlare della fine di un ciclo e dell'inizio di un altro ciclo, ma fondamentalmente è lo stesso ciclo. Soprattutto perché c'è questo 2 di pentacoli che rappresenta all'infinito i cicli che si ripetono e me lo richiama un po' la carta del mondo perché negli arcani tradizionali è rappresentato come l'uroboro quindi è il serpente che si mangia la coda. è un ciclo di cui non si vede mai la fine ricomincia sempre. In realtà poi sì c'è una fine e un inizio però e c'è una forma di attaccamento quindi ho come la sensazione che qui ci debba essere la forza di uscire da uno schema di comportamento. ecco perché c'è un 10 di bastoni vi dovete lasciare indietro certe aspettative certe responsabilità. Per qualcuno vi dirò è un cambio di quotidianità forte ripeto per quello che vedo un cambio di residenza un cambio di lavoro qualche cosa che cambiate nel vostro quotidiano che vi occupa la maggior parte del tempo quindi può essere appunto l'abitazione il vostro nido piuttosto che il lavoro se lavorate soprattutto 8 ore al giorno nello stesso posto sono comunque 40 ore alla settimana che vivete in quel posto lì. Va bene andiamo a vedere una fatina ragazzi vi dico l'incontro potenzialmente c'è ma è come se all'inizio non accettaste bene quest'offerta non vedeste la possibilità per qualcuno magari perché appunto c'è una fase di cambio che sta per arrivare e per qualcun altro vi dico l'idea è che si parte da qualche cosa che non si riconosce che poi viene vissuto un po' in segreto vi dico la forza è una carta che espande però qui è questo tre di spade che non mi tornava ma ho come la sensazione che avrete o raggiungerete o lavorerete sulla vostra forza interna ed è anche una carta di apertura del cuore per quello che poi sento l'imperatrice proprio come l'amore della madre ed è un po' come se qui ci fosse una sorta di sanazione e come c'è la sofferenza si fa il lavoro si lasciano indietro e si schiarisce la mente quindi ho proprio l'idea che qui si cambi si arrivi a un risultato si cambi il ciclo per ricominciare un altro ciclo che poi è sempre lo stesso ciclo ok però con una protezione diversa con un attaccamento diverso con una solidità diversa con un attaccamento diverso o perché questa carta non è proprio positiva il 4 di pentacoli e ragazzi vi dirò che potrebbe essere come un consiglio a non ripetere il ciclo dell'attaccamento dell'attaccarvi a qualche cosa di fisico a qualche cosa di materiale o magari a qualcuno andiamo a vedere le fatine stargazing questa carta parla del focalizzare la vostra attenzione sulle stelle diciamo così in questo caso fa vedere la luna e le stelle praticamente una carta che vi parla un po' di canalizzazione di meditazione quando si medita quando si prova a canalizzare perché è un po' la stessa cosa si rimane con l'attenzione vigile su tutto quello che può arrivare siccome il destino è scritto nelle stelle è un po' come si dice che il destino si è scritto nelle stelle è un po' come dire di guardare qual è il vostro destino ma guardarvi nel silenzio guardarvi dentro perché con la meditazione si entra in contatto con il proprio sé superiore non ho tante carte di sogno qui però è un po' come se vi dicessero di aprire il cuore di guardarvi dentro di essere una madre migliore per voi stessi perché qui è proprio pulite e siate ricettivi e anche la polarità femminile e la polarità positiva è quella che riceve riceve nel senso che è quella che riceve in grembo ok va bene amici della bilancia questo è quello che ho per voi spero comunque che la lettura vi sia stata utile almeno un po' perché comunque le carte ci sono diverse chiavi di lettura qui fatemi sapere anzi nei commenti come vi risuona se avete piacere potete mettere like iscrivervi condividere o abbonarvi o abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao ciao benvenuti agli amici dell'acquario andiamo a vedere che energie saranno disponibili a novembre io come sempre vi ricordo che le letture sono generali quindi è facile che non risuoni tutto se poi non doveste risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio vi consiglio di ascoltare l'ascendente il segno lunare oppure venere e per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video se mi volete contattare vedete la mail qui sempre la trovate nella descrizione del video e anche nelle info del canale vi ricordo che queste letture le potete integrare con quelle che escono quindicinalmente sull'amore e gli affetti allora partiamo da un tre di coppe dalla morte re di bastoni e papa dunque dire che inizio di novembre parte piuttosto allegro piuttosto nel sociale diciamo così ragazzi quando c'è un tre di coppe si parla sempre di eventi di ritrovi di aperitivi cocktail insomma eventi sociali è una carta che parla comunque di amicizia ma molte volte parla anche dell'incontro della relazione scusate a tre beh anche dell'incontro a tre comunque il punto qual è? che poi abbiamo questa morte come se ci fosse una sorta di cambio di switch cambio delle dinamiche la carta della morte è sempre una carta che parla di rigenerazione però prima di parlare diciamo di queste due carte andiamo a vedere subito le sfumature carta per carta allora partiamo della giustizia eh sì già lo sapevo e 7 di pentacoli allora qui ci può essere una relazione a tre perché qualcuno si sta separando con la giustizia al contrario o perché si sta facendo un'ingiustizia quindi la persona ha ancora una relazione in essere e semplicemente si parla di tradimento andiamo a vedere la morte perché qui qualche dinamica cambia cavaliere di coppa al contrario e tre di spade ragazzi qui ho la sensazione che se siete voi ad essere gli amanti l'altra persona non ha intenzione di muoversi è come se a metà novembre decidessi di dare un taglio perché comunque c'è un tre di spade è come se non prendesse posizione se non facesse un passo se non venisse dalla vostra parte e questo ovviamente crea sofferenza voglio andare a vedere anche questo re di bastoni abbiamo un cavaliere di spade e un quattro di spade allora giustamente qui si passa da un tre di spade a un quattro di spade da un cavaliere di coppa girato al contrario a un cavaliere di spade girato a dritto c'è una sorta di scusate rivalutazione di questa persona anche se vi devo dire che ho la netta sensazione che abbia un atteggiamento intermittente se non avete nessuno proprio nessuno neanche proprio una simpatia niente vi dirò che è come se tagliaste col passato qualcuno è come se guarisse questa ferita questa ingiustizia e verso la fine di novembre arrivasse questa persona vi dico all'inizio può sembrare come vi posso dire un po' dominante però non sufficientemente presente nel senso è come se quando siete in presenza di questa persona ci sia tanta enfasi tanto tanta affinità mentale tanta voglia di fare tante idee però che allo stesso tempo non sia una cosa costante ecco incostante è la parola giusta più che intermittente andiamo a vedere il papa nove di spade e regina di pentacoli dunque ragazzi io ho proprio la sensazione che qui sia una persona che o arriva da una separazione o comunque già cioè si sta separando o può essere che non sia completamente separato qui c'è qualche cosa a livello di matrimonio di contratto che non è scusate non è in regola e ho anche la sensazione che ci sia una ex che vi preoccupa o una situazione magari non sento tanto di famiglia ma per qualcuno potrebbe anche risuonare con dei figli ma poca roba però è come se appunto ci fosse qualche tipo di preoccupazione o per quello che riguarda appunto una donna una ex potrebbe essere potrebbe essere una collaboratrice di questa persona o la vostra collaboratrice o vi dico che potrebbero essere questioni che vi preoccupano nella gestione della relazione nel quotidiano vi dico l'idea è che qui o stiate riparandovi da un trauma e quindi vi capiti magari di conoscere di nuovo una persona che è già stata sposata che si stia separando insomma che abbia già una cosa ed è un po' come dire no ok ma di nuovo risuccede la stessa dinamica di prima però vi dico un'altra chiave di lettura del Papa al contrario è un po' come se vi dicessero di prenderla con calma di non fare le cose così apertamente di non aprirvi così tanto di non comunicare così tanto all'altro di non sopperire voi alle responsabilità che si deve prendere l'altro va bene fatemi sapere come vi risuona nei commenti perché comunque è un po' particolare come stesa vi dico essendoci la giustizia al contrario ci potrebbero essere anche proprio delle questioni legali che non si sbloccano a novembre magari è una la firma di un divorzio che non arriva la firma per la vendita di una casa o l'acquisto magari di una casa magari è la firma del finanziamento insomma c'è qualche questione burocratica un po' incastrata allora andiamo a vedere una fatina ancora guardate che strano pensavo che fossero tutte girate al contrario perché si è girata questa che è la base del retro prenderò solo la prima ragazzi perché sono veramente tante quelle che sono uscite abbiamo la carta della saggezza è come se vi dicessero di fare appello a tutto quello che avete imparato a tutto quello che sapete a tutto quello che sono le vostre esperienze progresse per aiutarvi in questa sfida è la carta della giustizia la carta del quinto chakra la carta del discernimento la carta del giusto o sbagliato sapete che cosa si può o non può fare o che cosa si deve o non deve fare sta a voi seguire la vostra morale anche un po' non avete le figure di spade vero? avete solo no comunque si parla anche di morale in un certo senso di giustizia divina parla di qualche cosa che va riequilibrato normalmente vediamo se si vede qui no vabbè ha due gatti uno bianco e uno nero quello bianco possiamo dire che rappresenta lo yang la luce il divino maschile e quello nero può rappresentare lo ying il femminile la notte il potere appunto femminile quindi è come se ci fosse da mettere in equilibrio quello che è la parte affettiva la parte emotiva con la ragione con la razionalità con quello che si può e non si può fare insomma amici dell'acquario spero che la lettura comunque vi sia stata utile fatemelo sapere nei commenti se avete piacere potete mettere like iscrivervi condividere il video o abbonarvi al canale io vi ringrazio di essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao